Cadono le teste di tre ministri bulgari dopo l'incidente che ha coinvolto un bus turistico nel quale 17 persone sono morte e 12 rimaste ferite. Il mezzo si è rovesciato in una curva di un tratto autostradale a una ventina di chilometri da Sofie ed è precipitato in un burrone, sotto accusa la negligenza dell'autista ma anche il pessimo stato del manto stradale. Hanno dato le dimissioni il titolare dei trasporti, Iva Ilo Moskowski, dei lavori pubblici, Nikolai Nankov e dell'interno, Valentin Radev.